Con noi Dorica, già nostri ospiti lo scorso anno per il progetto straordinario della collana fotosintetica che ci aveva fatto sognare. Quest'anno ritornano con una cosa straordinaria, il progetto della rinascita della via della seta, una seta etica. Ma andiamo per passi. Anzitutto Gian Pietro, ci racconti come nasce e come si sviluppa Dorica. Dorica è un'azienda orafa, è nata 26 anni fa. Noi lavoriamo in tutto il mondo, il 95% è esportato in tantissimi paesi, la Turchia, Dubai, l'estremo oriente, quindi parliamo di Hong Kong, Singapore, Malesia. Il nostro prodotto è veramente made in Italy in cui la differenza la fa la creatività, la manualità. Oltre a questo noi abbiamo macchine ad alta tecnologia, sintetizzatori, laser e quindi è un prodotto molto richiesto perché è una nicchia di mercato che richiede oggetti fatti su misura. Infatti noi lavoriamo solo prodotti che sono richiesti dal cliente e che sono anche personalizzati. Ma Dorica non è soltanto oro, non è soltanto gioielli, diciamo sono gioielli ma non è soltanto oro. Allora raccontaci un po' Daniela come nasce quest'idea della seta. Un'idea un po' particolare perché un'azienda ora si reinventa e praticamente mi è passata per la testa non so come, la voglia di fare un gioiello con del filato che avevo. La prova che ho fatto, indossata dalle donne della Dorica, tutte letteralmente impazzite, hanno detto questa la voglio, questa la voglio e ho cominciato a pensare che forse era la via giusta, la via della seta. Questo che indossi è un esempio? Questo sì, è un gioiello, si chiama Sogni Dorica, non poteva chiamarsi altrimenti e praticamente è di una lunga serie praticamente ci sono vari modelli che ho fatto e per mezzo del C.R.A. di Padova che ci ha permesso di trovare la seta italiana. Ecco, la ricostruzione della filiera della seta e del know-how e dell'attrezzatura di una seta che ormai Giampiero diceva da 50 anni non esisteva più in Italia, un patrimonio quasi perso, vi ha portati ad incontrare anche il C.R.A. di Padova. Allora Silvia Cappellostri qui con noi ci racconti un po' la vostra esperienza, siete leader mondiali diciamo in questo settore della G.C. Barchicoltura. La mia istituzione è molto antica, nasce nel 1871 a Padova e ora fa parte del C.R.A. È un'unità di apicoltura e bacicoltura e ha sede in Veneto perché la tradizione della seta è soprattutto veneta in Italia. Noi facciamo ricerca e conserviamo razze di bacco da seta, circa 200, e una collezione di gelsi che è l'unico albero della cui foglia si nutre il bacco da seta. Abbiamo collaborazione a livello internazionale e lavoriamo a stretto contatto anche con le ditte del territorio e con gli agricoltori. Per questo siamo stati ben lieti di aderire a questo progetto che ci ha dato la possibilità di applicare la nostra ricerca e di poter supportare proprio l'economia del nostro territorio e speriamo che questa esperienza si possa estendere a tutta Italia. Fantastico, complimenti, altro che collezione di Franco Bolli. Voi fate una collezione straordinaria. Questo è uno dei progetti più belli che ospitiamo perché affonde ricerca, impresa, cooperative sociali del territorio che poi lavorano in materiale, è un po' quello che vedete alle nostre spalle, quindi davvero un esempio di quello che con Ecofuturo cerchiamo di promuovere a 360 gradi.